La Teramo Ambiente, una gestione scriteriata durata nove anni. Si esprime così, senza mezzi termini, il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, quando parla del piano economico-finanziario della Team, la partecipata che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del comune Aprutino. La previsione di spesa per il 2019, rimessa dalla governance della Teramo Ambiente all'amministrazione comunale, sfiora i 12 milioni di euro, cifre che aumenterebbero ogni anno di più e per la prima volta il socio pubblico di maggioranza, cioè il comune di Teramo, ha deciso di non riconoscere alcune voci di spesa, via alcune esternalizzazioni, via le spese relative a transazioni raggiunte con i dipendenti licenziati, via consulenze esterne. Il tutto farà risparmiare al comune di Teramo 750 mila euro. Un piano economico-finanziario che sconta in parte tanti errori del passato, una cattiva gestione dei rapporti tra comune e Teramo Ambiente che ha pesato enormemente sulle tasche di Teramani perché è stato sentito sul piano della triffa dei rifiuti e anche di alcune situazioni che noi non abbiamo condiviso nel corso di questo anno nella gestione della società e che quindi abbiamo ovviamente nella tutela dei cittadini Teramani contestato e che sarà oggetto di ulteriori analisi nelle prossime settimane nel rapporto con la governance della Teramo Ambiente. Quando parlo di gestione schideriata parlo di una gestione che viene da lontano, negli ultimi dieci anni, la gestione del porta a porta che ha portato ad un incremento del costo della tariffa senza alzare la percentuale della raccolta differenziata e a pagare tutto questo sono stati cittadini. Su questo dobbiamo intervenire, lo abbiamo detto, in parte con una rimodulazione del costo della gestione del servizio ma anche e soprattutto con l'abbattimento dei costi fissi della società e di quelle scelte che francamente non rispondono alle esigenze dell'amministrazione comunale di Teramo, del comune di Teramo, della comunità teramana che oggi è l'unico cliente sostanzialmente della Teramo Ambiente e che tiene in vita di fatto la società. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha imposto anche che le spese complessive della Team vengano ripartite diversamente alleggerendo la quota della Tari sulle famiglie del 10,72%. Abbiamo deciso di applicare le riduzioni in favore delle famiglie, così come abbiamo annunciato e promesso. Si tratta di un segnale, perché parliamo di una riduzione media del 10,72%, senza però far gravare il peso di questa scelta sulle attività produttive che dopo aver goduto di una riduzione negli anni precedenti, quest'anno comunque non subiranno aumenti. Il comune di Teramo interviene dunque pesantemente sul piano economico-finanziario della Teramo Ambiente, lo contesta in più parti e chiede maggior rispetto dall'attuale governance. La fiducia e la pazienza del sindaco verso i vertici Team sembrano davvero finite.